L'unidì scorso i Rotary Club Pozzuoli del Comune inauguravano la prima giostra per disabili della Campania ed oggi, ad una settimana dall'installazione, la notizia che ha lasciato di stucco molti puteolani, la giostra per disabili è stata chiusa ed interdetta a tutti. La decisione, come riporta il giornale online Cronaca Flegrea, è stata presa dagli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, che nulla hanno potuto contro l'inciviltà dilagante di alcuni adulti. Diverse le segnalazioni ai vigili urbani che per l'intera giornata di domenica hanno pattugliato il lungomare Pertini, combattendo contro l'inciviltà e l'ignoranza di alcuni genitori che facevano a salire sulla giostra i propri figli, sebbene quest'ultima sia ad uso esclusivo dei bambini con disabilità motorie. Non è bastato il cartello con rispettiva segnaletica e nemmeno l'indignazione di alcuni presenti che più volte hanno invitato gli incivili ad allontanare i loro figli dalla giostra. Tre, quattro e addirittura cinque i bambini sulla piattaforma riservata alle carrozzine, rischiando di distruggere i sistemi di sicurezza. Tantissima indignazione e amarezza per il Rotary Club Pozzuoli, che in un mese era riuscito a raccogliere fondi per donare la struttura alla comunità e adesso sta pensando seriamente di rimuoverla. Se il trend non dovesse cambiare, si potrebbe decidere anche di rimuoverla e Donalda ad un'altra città. Ha affermato Sergio Di Bonito, presidente del Rotary Club di Pozzuoli, che ha condannato quanto accaduto in questi giorni su lungomare di Via Napoli. Il nastro bianco e rosso che sigilla l'altalena è una sconfitta per l'intera comunità puteolana che non ha mostrato rispetto per i tanti bambini portatori di handicap. Nei prossimi giorni verrà installata una nuova segnaletica con la speranza che quanto accaduto sia servito da lezione e non si ripeta mai più.